Siamo qui al centro Genti di Pace della Commenda di Pre, in questo luogo molto bello, siamo da circa un anno e mezzo. È un centro di distribuzione di spese alimentari. In questo ultimo anno e mezzo è cresciuto il numero delle persone, qui fanno riferimento circa 1500 persone al mese. In realtà raggiungiamo più di 5000 persone perché tante sono le famiglie con tanti bambini che provengono un po' da tutto il mondo. Questo diciamo che è un centro che raccoglie veramente tanti tanti continenti. Ma tra questi abbiamo anche una crescita di persone italiane, in particolare persone che hanno perso il lavoro e in particolare anche pensionati. Quindi questa spesa alimentare diventa un sollievo per tanti. In questo periodo stiamo preparando le spese alimentari con degli ingredienti in più, che sono quelli della tradizione appunto proprio del Natale. E proprio perché la povertà cresce noi abbiamo sempre più bisogno di tanta solidarietà da parte di tutti, perché vogliamo che Natale sia veramente Natale per tutti.